Quello del naufragio del peschereccio Vincenzo Milù è soltanto l'apice di una situazione denunciata da più parti a partire dall'inizio di novembre, quando la grande mareggiata creò la situazione di insabbiamento attuale del porto. E ad essere chiamata in causa è l'autorità portuale regionale, REA, secondo la cooperativa dei pescatori, di non aver fatto abbastanza per scongiurare la situazione attuale, sia con interventi preventivi che con l'adozione di soluzioni d'urgenza, oltre a quello dell'intervento della Draga Aurieldo. Sulla medesima posizione dei pescatori, la sezione pesca di Coldiretti Toscana, con il responsabile Danilo Di Loreto, che ha ribadito l'esigenza di chiudere il porto e fornire ristori alle imprese coinvolte. E sul fronte politico sono PD e Lega di intervenire, con il consigliere regionale del Carroccio Massimiliano Baldini, che ha affermato che tornerà a presentare la questione durante la seduta della Commissione regionale infrastrutture di giovedì e il Partito Democratico di Viareggio, che sollecita l'apertura in regione del tavolo di crisi richiesto nei giorni scorsi dai pescatori. Per quanto riguarda la posizione dei cantieri navali, è Gabriele Chiellini di Confindustria Nautica a ribadire quanto dichiarato nei mesi scorsi. Siamo sulla posizione di sempre, ha dichiarato Chiellini, ovvero puntare su sabbio dotto e draga fissa, che ad oggi attende l'esecuzione da parte della regione che ha stanziato i fondi. Gianni lo ribadì a giugno all'incontro organizzato dal PD via Regino. E intanto si stanno rivelando difficoltose le operazioni di messa in sicurezza della Vittorio Milù. La Capitaneria infatti ha diramato una rota in cui specifica che al momento non è possibile il recupero dell'imbarcazione a causa delle condizioni del mare e che nei prossimi giorni verrà effettuata un'ispezione subacquea per verificare le condizioni dello scafo e per il pompaggio dell'acqua che lo ha invaso.